Sono molto curioso di vederlo in best of one, credo che partirà dai mono red ma vediamo Sono molto curioso E' un convoc a Zorius 4 orale per cosa? Ah per qui? Cosa che mi manca? Ghost Vacuum, no non ci interessa E' questa cosa qua Vediamo, gioca queste carte qui, nuove Vediamo com'è Non lo so, è molto interessante sicuramente Sicuramente molto interessante, vediamo E' molto simile a biscottini, è una metà via tra biscottini e convoca, ha fatto 7-2 in best of three Quindi sicuramente va provato Tanto non costa troppo come mazzo, se avete già un mazzo simile Vediamo Mi ha giocato prima i Storix e Raimon, mi ha fatto 7-5 con un Maghi Ste, grazie mille per il follow Sì ma l'abbiamo detto anche noi, ma infatti è uno standard Horizon quella cosa lì Il problema ragazzi, andate a recuperare davvero il video di Commander perché dico delle cose che sono importanti E ciclo, acci pigna, subito sogno con UV Che super mazzo avrà? UV control come al solito, quindi abbiamo, siamo morti Non ce la facciamo Teorie Sempre Sempre UV Vai Beh siamo super morti, qui non ci provo neanche E dicevo In quel video lì dico delle cose abbastanza pesantine dal punto di vista del gioco Ecco è, sottolineo come quest'anno sia stato orrido per Magic Perché è stato orrido per Magic quest'anno Ripeto, cose buone per il gioco quest'anno Non ce n'è stata neanche una A parte i bandi a maglia, probabilmente E quindi siamo in un momento in cui Wizard comunque deve fare i conti col proprio prodotto, secondo me Cioè non può far finta di niente Se inizia a far finta di niente adesso Rischia di perdere gente E secondo me Non deve perdere altra gente adesso Wizard Perché è il periodo più sbagliato di tutti per perdere gente Proprio perché, come sappiamo La questione competitor è molto accesa Ha minato la fiducia dei commanderisti Minare la fiducia dei commanderisti Non è mai bello, secondo me In questo gioco, attualmente E... Non lo so Non è la situazione più bella che abbiamo visto del gioco Quali sono stati i problemi di Magic quest'anno? Beh, il primo che ne ha fatto È che hanno stampato troppa roba Troppa roba Cioè, il fatto è che loro non lo leggeranno mai come un problema Perché loro hanno venduto, ok? Quindi per loro, a livello economico Va benissimo continuare a stampare Ma la dura verità È che per i giocatori, invece È stata una... Una nata molto disastrosa da quel punto di vista lì Per... Come dicevo già mesi fa E la gente Poi può pensarla come vuole Può darmi del coglione Non mi frega un cazzo Come dicevo già mesi fa Secondo me stanno settorializzando Che è una mossa intelligentissima da fare ora È tanto intelligente Perché settorializzare su questo gioco Vuol dire, banalmente Avere più introito Perché se tu settorializzi per formato Chi non gioca a quello specifico formato È costretto a spendere E quindi se tu sviluppi Cioè stanno letteralmente guadagnando da questa cosa Perché non penso proprio che loro non abbiano percepito Che dal punto di vista del gioco La stampa è troppa Troppa Cioè non c'è... La stampa è troppa ragazzi Troppa È troppa per chiunque Per me, per voi È troppa per chiunque Quindi... Mi sembra veramente Tanto, tanto strano Che facciano finta di nulla Sembra veramente strano Troppo strano Sì, poi lo stanno dicendo tutti È veramente Un momento molto particolare del gioco Ricordiamoci che è arrivata Asbro Non penso che sia solo sua la colpa Se si deve parlare di colpa e non di mossa Perché, ripeto È una mossa di mercato ragazzi Sono mosse di mercato Che sono giuste eh Cioè Da qui si è morti Sì Sono mosse di mercato abbastanza corrette in realtà Non puoi dire che non siano corrette Perché dal punto di vista appunto Della vendita, della settorializzazione del tuo gioco Tu stai guadagnando punto Ma è il motivo per cui vanno i pre-con Se ci pensate Grazie Piraz Grazie mille per il secondo mese Grazie di cuore È il motivo per cui stanno settorializzando anche i pre-con ragazzi Secondo voi perché hanno fatto un ban in commander ora? Ora Solo perché Bella Bella giocata Solo perché Avevano bisogno di togliere dalle palle quelle carte lì? Non credo Perché è vero che c'è il panel esterno che ha deciso Ma è anche vero che Wizard ha detto di sì E secondo me nel momento in cui Wizard ha detto di sì Ha dichiarato che Nonostante lei avesse Palesemente guadagnato da quella vendita lì Lei volesse anche di più E ci sta Dai slandami E ci sta Da quel punto di vista lì ci sta Da quel punto di vista lì ci sta Eh no Devi pensare Allora Al di là del fatto che siano andati a toccare commander Che è la cagata Perché è l'unico formato che non gli rompeva i coglioni a Wizard Come dico sempre Che è l'unico che non diceva Bau sui ban Andare a minare quello Non va bene Decisamente non va bene Però ripeto Se pensiamo a Magic Arena Se pensiamo a come ha gestito i suoi formati Se pensiamo a Standard Che diventerà Foundation Standard Se pensiamo a Pioneer Se pensiamo al Modern Con Come si chiama? Con Con Modern Horizon Se pensiamo a tutte queste cose Caspita Ti viene da dire Ma Cosa sta succedendo nel mio gioco no? Un pochino ti viene da dire Ma perché stanno differenziando così tanto il gioco Buttando fuori così tanto? Secondo me stanno facendo una settorializzazione Sono convintissimo di questa cosa Loro stanno rendendo inaccessibile il multiformato Proprio perché Rendendolo inaccessibile il multiformato al giocatore Il giocatore ha portato a spendere di più per continuare a giocare Ci sta Guardate che è una mossa giusta Cioè L'ho sempre detto che è una mossa giusta E che secondo me È quello a cui stanno puntando Ma ci sta Ci sta Anche settorializzare il Commander adesso Non è una stronzata se ci pensate Non è una stronzata Se buttassero fuori un Commander Competitive Ma pensate quanta gente passerebbe a Commander Competitive Che magari sono sempre stati commanderisti Ma gli ha sempre fatto schifo il formato costruito di turno Provate a pensarci Secondo me non è così stupida come cosa In cartaccio non puoi essere F2Play 7.1 Se stiamo parlando di cartaccio Non puoi dire che sei un FTP Non sei un FTP Non lo sei Non lo sei Punto Cioè sei uno che ha speso Se sei in cartaccio hai speso anche solo per comprare terre Quindi da quel punto di vista lì non va il discorso Io volevo fare shelter da lì sopra ma Oh no 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 Quindi moriamo Moriamo sempre Vabbè Facciamogli tirare una bratta Un counter Vediamo cosa succede Poi farà sound for lui Ci riprovo Ha fatto così Potrebbe non avere risposta Boh Vabbè se countera questo GG Sì Assault partition Ok Bravo bravo Sonia bravo Molto bello Molto bello Ma ragazzi Arena Se stanno Allora Già sono in pochi Poi se si stanno davvero solo concentrando su Pioneer Master Potete salutare Timeless e Historic Per un po' Che Che no Anche perché io sto pensando alla prossima Alla prossima Ondata di eventi competitivi Ci sta a puntare sul Pioneer eh Adesso ci sta perché Modern fa cagare Modern fa cagare Ragazzi adesso Si sta a puntare sul Pioneer Che hanno appena rinnovato No Sai cos'è il problema che ne hai fatto Non è tanto quello che scrivi tu È il fatto che la gente sta abbandonando Magic Per quelli lì E giustamente dici Eh ma ha solo i personaggi Sì peccato che se Topolino attira più di Gideon C'è un problema Cioè se Topolino Ti va a prendere Il target Che prima si concentrava solo sui Planeswalker È un problema Cioè non stiamo parlando di Yugi Leonk grazie mille per il follow Non stiamo parlando di Yugi ragazzi Non stiamo parlando di un mazzo Cioè un gioco fantasy Stiamo parlando di Topolino Che prima di adesso L'unica cosa che aveva fatto Incredibile Era stato prendersi Kingdom Hearts Eh se mettono l'Orkana online Ragazzi è la fine Mi hanno già chiesto anche degli altri creator Di andare a fare l'Orkana con loro Cioè Rendiamoci conto della situazione in cui siamo Perché secondo me Non ce ne stiamo rendendo troppo conto Di dove stiamo andando con Magic Io ho tanta paura Tanta Tantissima paura Che nemmeno Wizard Si stia rendendo conto bene o male Di dove stiamo andando a parare con Magic In questo momento storico Perché non siamo messi benissimo Anche a livello di Di voglia di giocare Quindi Quando Quando diciamo queste cose Comunque insomma Wisi dovrebbe rendersi conto Che non è Il momento migliore Per fare scelte sbagliate Poi Ovviamente Wizard è un'azienda multimiliardaria Fa quello che vuole Però a livello di gioco Ci sono dei piccoli problemi Si cane Ci può Ci può perché Hanno fatto una meccanica Bellissima Che è quella che noi usavamo Quando giocavamo a Mazzone Mazzone È Una modalità di gioco Nel quale Tu prendi 80 100 140 carte Quelle che vuoi Di Magic Le metti tutte in un unico mazzo Ok E giochi a Magic Punto Giochi letteralmente a Magic Nel senso che Non hai terre Non hai tutori Non hai niente Non hai specificità Ma puoi Giocare le carte Tu è peschi Tu scegli Quali carte diventano terra E quali carte diventano spell E quella cosa lì Di Lorcana è fighissima Perché Non avendo Sideboard Tu ti devi già Preparare il mazzo Sapendo che Una certa tipologia di carta Contro alcuni Possono diventare Terre Ma possono essere Risorse anche È una cosa Molto intrigante Come cosa Non è brutta Ma manco per il cazzo Proprio E secondo me Sarà quella lì La forza di Lorcana Quella lì Sarà la forza Di Lorcana Ragazzi Vedrete Quella lì Sarà la forza Di Lorcana Se va avanti così Anche perché Adesso Lorcana Ragazzi Parliamoci chiaro Sta facendo L'old Magic The Gathering Praticamente Ha dentro le Power 9 Di Magic Lorcana Adesso E avendo dentro Le Power 9 Di Magic Dà tanta Voglia Di provarlo Di giocare No E caspita Se Se c'hai dentro Le Lorcana Di Magic Cioè le Power 9 E stai giocando Un altro gioco Eh io due Due domande Me le farei Eh mi sa che Non lo so Magari sto esagerando Però Sicuramente Lorcana è partito Molto meglio Di come erano partiti Altri giochi Perché anche forse Will era partito Da Dio Da Dio Ma poi faceva cagare Perché non era Magic Questo è Non è Magic Lo ricorda tanto Ma è stimolante Eh non lo so Sherry non lo so Sta tirando di più Però eh Il fatto è che noi Diciamo così Però intanto va di più Perché va di più Anche se ha una Lorde Merda Perché se il gioco Quanti di noi Non sanno La Lorde Magic Ragazzi Obiettivamente parlando Dai vi prego Siate almeno sinceri Quanti di noi Non sanno un cazzo Della Lorde Magic Tantissimi Non sanno un cazzo Della Lorde Magic Di noi Giusto E fidatevi Che se ne fregheranno Anche della Lorde Lorcana Se ne fregheranno Della Lorde Beh ma Airstone Era proprio Un pubblico diverso Eh vedi Il problema è Cioè ragazzi Il fatto è quello Non è che Siamo qui a raccontarci Le noccioline È quello Magic ha una Lord Pensa a te Veggente Che tra l'altro Per varissimi punti Fa cagare Quindi Grazie Boge Grazie mille Più tardi Lo guardo Grazie Quindi non lo so La Lorde Secondo me Non va a determinare Il successo L'insuccesso Di un gioco Anche perché Se poi fanno Un papirino figo Tipo Paperino medievale Che è Guida Goblin Sì va bene Cioè non mi interessa Che sia Paperino lì So che sto andando A giocare Disney Eh ma che ne fatto Quanto tempo fa L'hai provato Hanno fatto un torneone Da 2000 persone Vuol dire che Non è brutto Paperinik Paperinik Non so se c'è Non lo so davvero Sono keep Comunque torniamo al discorso Cioè Wizard Deve stare attenta Perché adesso I competitor cattivi Ci sono E quindi Mi auguro Con tutto il cuore Che lei sappia Gestire al meglio Questa situazione Di confronto Rispetto a A quello che sta succedendo Nel mercato adesso Perché non è più Cioè lei è sempre La punta di diamante È sempre L'azienda più figa Del mondo Per quello che ha fatto E per quello che ha costruito E ha in mano Il gioco più bello Di carte collezionabili Nella storia dell'umanità Punto Cioè questa è una verità assoluta Ma se continua Ad andare male Il gioco A livello di divertimento È qualcosa che non va Purtroppo Purtroppo Ci sta Ci sta Can è fatto Ci sta Sto altre due mana Se fare movale è un disastro Se non la fa Abbiamo un bel pezzo E Dimmi È bruttissimo da dire Ma c'hai ragione È bruttissimo da dire Ma c'hai ragione Da quel punto di vista lì Però è molto brutto da dire Vai Siamo crescendo un po' Il bannicorno E poi vediamo come si mette Ah ma ci sta Can è fatto Ci sta Ci sta Ci sta Da quel punto di vista lì Hai perfettamente ragione No no ci sta Ci sta prof Ma è chiaro che non è un gioco perfetto Lorcana Non stiamo dicendo questo Si sta dicendo che Bisogna che Wizard Si renda conto Che sta perdendo gente A favore di un Di un gioco minore Capito Cioè è quello il discorso Il fatto è che sia un gioco minore Perdere gente A favore di un gioco minore È gravissimo ragazzi È gravissimo Per un gioco come Magic È molto grave Esuberantemente grave Per citare Faccio su delay Vabbè Mi hanno trovato terra Peccato Penso che me ne fregherò Dei suoi attaccanti Ora Questo c'è anche Word Questa carta qua È fuori di testa È molto forte Al Melle Sono tutti belli Mazzi standard Nuovi Belli Ma poi Boros In generale Penso che adesso In best of one Sia il miglior control Che esista Perché gestisce molto bene Monored Non lo so Sherry È una giusta domanda Ma non ne ho idea Non esiste È esistito un gioco Non Non ufficiale Di me Ma l'hanno buttato giù Giustamente Giustamente Eh gli hanno fatto bene A buttarlo giù Non l'ho ancora provato Il monoglue Prenderò due danni? Sì Mockingbird Su Volevo farlo su Bannicorno Si può fare in realtà Questo è il Seraph Vai Sto mazzo Comunque Si prende un lockdown Ai denti E sei sempre morto Ha trovato il removal Ma non può farlo È carino Non lo so davvero Che ne è fatto Bisogna vedere Sicuramente Wizard Una cosa che Passa sempre in sordina Di Wizard È come se Lei non Non ascoltasse nessuno Ma in realtà Lei ascolta tutti E sa benissimo Quello che stiamo dicendo Cioè nel senso Non è scema Anzi È una che sa fare molto bene Il proprio lavoro Altrimenti non sarebbe arrivata qua Secondo me Prenderà sicuramente La questione in mano Cioè non è possibile Che faccia finta di niente Non è lo stesso gioco Croft MTGO è infinitamente meglio A livello di gioco È infinitamente meglio Cioè se tu vuoi giocare a Magic È molto meglio MTGO Cioè Per quello che dico sempre È inutile pensare Che esista un competitivo Di Arena O che esisterà un competitivo Di Arena C'è Magic Online Che è troppo meglio Per quello Troppo È troppo meglio È troppo meglio GG Cioè sarei uno Un bugiardo Nel dirvi che Su Arena Trovi le stesse capacità Allo stesso livello Di MTGO Non è così Non è così Non è assolutamente così Quindi Secondo me è giusto Che ci sia il MTGO Adesso È analogico Il MTGO Ragazzi È analogico Beh per un sacco di tempo Non è potuto neanche giocare Arena Cioè secondo me Il problema vero è che hai un Mac Scusate ma io odio questa cosa Nel senso che Quando sento la gente Lamentarsi del fatto Che non esistano i programmi Per i computer Apple E hai comprato Apple Mi Mi Incazzo un po' Perché dico Eh ma l'hai scelto tu Di avere quel PC Cioè Hai pagato anche tanto Per avere quel PC Cioè Non capisco dove sia il problema Il fatto che non Cioè L'hai scelto L'hai scelto L'hai scelto Mi dà molto fastidio Mi è sempre dato fastidio Perché lo hai scelto Comunque Di averlo Non è che hai detto, eh, ho comprato il computer più figo del mondo, ma per principio non gli fanno le cose. Tu hai scelto di comprare un bel computer che però ha dei limiti. Sì, fila, ma non cambia, cioè hai capito? Non cambia, cioè tu hai quello, devi abituarti a usare solo quello e accettare i suoi limiti. È quello il discorso, non critico chi l'ha comprato. Critico nel dire che c'è gente che si lamenta che non c'era Magic Arena su Mac, scusate, E però, però, cioè tu lo sai che è un Mac, capito? Cioè, Magic Arena lo puoi giocare su un Windows da 500-600 euro, ragazzi. Anche di meno. Non vedo la necessità di farlo su Mac, capito? È quello il discorso. È quello il discorso. Perché no? Perché sceglie l'azienda, cioè, capito? È come quando sento la gente che ci lamenta dei nerf, porca puttana. È una cosa che mi fa incazzare. Ormai sono anni che abbiamo i nerf, perché ci stiamo lamentando ancora dei nerf che non ridanno le wildcard? Scusate, ma non è più sensato dire non ti piace come cosa non ci giochi, cioè, non capisco. Veramente, cioè, ok, fanno cagare i nerf, va bene, ma lo sappiamo che fanno cagare. Cioè, hanno scelto così anni fa, ormai basta lamentarsi di questa cosa. Sono cose strane, secondo me. Sono lamentelle a vuoto, proprio per lamentarsi e basta. Cioè, mi fa triggerare un sacco che Arena si stia lamentando ancora dei nerf di Storic, anch'io, a volte, ma non sta dicendo niente sul fatto che Magic sta buttando fuori roba a caso, a caso, a caso, a caso costantemente. Beh, no, ragazzi, cioè, sono due lamentelle diverse, che hanno un'profondità diversa, un'importanza diversa. Non lo so. Bello anche questo mazzo qua. Non lo so. Esatto, Croft, bravo, esatto, esatto. Bunt non performa quasi niente, Piratz, purtroppo. Ha performato anni fa, quando si giocava Flash, ma adesso non si gioca più. È una meccanica troppo scarsa. Grazie mille per il secondo mese, spero di averti ringraziato prima, spero. Spero di non che tu non mi sia sfuggito. Cioè, secondo me, siamo in un momento in cui la polemica sterile è molto alta e si sta andando a dimenticare che ci sono dei problemi molto più seri su questo gioco qua. Hunter. No, Fable Passage è un po' per counter. Ecco lo Bunt. Mi rimbalzi? Beh, aspetta di rimbalzare il bannicorno, ma non ha senso che fai ora. Ah, non è Bunt. Ah, è Reanimator T3. Sì, siamo morti. Se tu mi dici che sei Reanimator T3. È molto probabile. Proviamo a spingere, ma... Può fare anche cut down. Sì, cosa puoi ritirare poi? Prima ti milli. Molto bella doppelganger, sì. Un'altra. Boh, RK, sì? Non lo so. Sì, può essere. Può essere che abbia senso che sia ancora nerfata. Sai cosa? È lo stesso problema dei bundle modern. Non li testa più nessuno, ragazzi. E non testandoli più nessuno, non hai idea di come possano davvero essere, no? È la stessa cosa. Ma perché o manca gente a Wizard, o veramente non ha più intenzione di fare quelle robe lì e deve pensare solo alla produzione. Che ho paura sia la grande verità. Che ho paura sia la grande verità. Può essere. A parte il fatto che è difficilissimo testare adesso, ragazzi. Cioè... Non so se vi rendete conto come... Cosa vuol dire testare per moderno? Vuol dire pensare a infinite combinazioni di carte, praticamente. Infinite, cioè... Infinite, proprio. Vediamo se ha vinto ora. Se non vince ora guadagnando anche delle vite, possiamo fare Steel Seraph e dare a volare al pezzo che... che potrebbe passare, diciamo. Non mi sa che ha vinto ora. Molto probabile. Se fa Vratta abbiamo Terra. Hai perso una vita, eh. Vediamo. C'è Lumra che può reanimare. Però Lumra non gli basta, in teoria. Secondo me qui è... Faccio questo. Perché Bannicorno diventa un 4, lui deve avere doppia rimozione. Una. Trigger di Zoetico. Va bene. Quelli che contano non ci sono i trigger di Bannicorno. Ok. GG. Bella. Molto bella. Comunque Standard è bello, eh. C'è poco da dire. Standard è un gran bel formato. Standard è proprio un gran bel formato. Quello sì. Diamo a Cesare quel che è di Cesare. Standard è proprio bello. Proprio, proprio bello. Vai. Standard è proprio bello. Indubbiamente è il più bello di tutti. Indubbiamente. Indubbiamente è il più bello di tutti. Attualmente. Keep. Dobbiamo fare Mockingbird a 1. Oppure lo facciamo a 2... No, però tu non ho 3. No, mi sa che facciamo Mockingbird a 1. Questo non possiamo giocarlo. Eh, no. Mi sa che Mockingbird non basterà. A meno che lui non abbia una partenza spintissima. Vediamo. Pallo. Pallo. Vai. Pallo. Rufilinga. Sì. Ovviamente ha un trick qua. Assicuriamoci se non ha un trick. Mi dà un più 3 più 1. Ci fa 6 danni totali. Perché quello muore lo stesso. E ce ne fa... No, 10 danni totali, scusate. Perché quello muore. E... Ok. Almeno noi abbiamo fatto rimozione. 9 danni? 9. Ho dato male. 9 danni. Eh... Bannicorno. Eh... Speriamo che sopravviva un turno. Tutto bene, Neish. Grazie. No, procede abbastanza bene. Abbiamo fatto... Due belli... Due venti bellini. Dai, bellini. Bannicorno... No, Bannicorno si sacrifica per la causa. Un trample l'ha già tirato. Potrebbe non averne un altro. Rag... Invece ce l'ha. Ragdos, Trasmogrify in Explorer. Abbiamo fatto un 5 con il Maghi dell'altra volta in Historic. Non l'ho visto il nuovo Ordover Animator Standard. Sto ha una mano... Perfetta. Letteralmente perfetta. E noi siamo morti ora. Senza ombra di dubbio. Siamo morti ora. Brutto. Molto brutto, Atipical. Molto brutto. Un po' abbandonato a se stesso. Vabbè, Atipical. Tutte e due, che ti frega. Hai vinto. È un trick qua. Comunque moriamo. Va bene. Allora, non male. È bello questo mazzetto. Mi è piaciuto. Mi è piaciuto. Mi è piaciuto questo mazzetto qui, eh. Peccato che abbia fatto 3. Faceva 4 e era ancora più interessante. Ma va bene. Ci sta. È un bel mazzetto. È un bel mazzetto. Molto semplice da giocare. Quindi ha la portata di tutti. Molto bello. Molto bello.